Oggi l'innovazione tecnologica sta offrendo un enorme ausilio per la prevenzione del cancro del colono, nel senso che la prevenzione si fa attraverso ricerca del sangue occulto e nei positivi con la conoscopia. La conoscopia è un esame che avviene in diretta, non ripetibile, almeno non nell'immediato e che ha bisogno di una grande resa diagnostica. Non è immaginabile che durante la conoscopia vengano mancati polipi o lesioni che possono potenzialmente diventare in futuro dei tumori, per cui proprio per migliorare la capacità della diagnostica dei medici, degli umani che hanno anche dei limiti nell'identificare la lesione, nel guardare bene la mucosa alla velocità con cui viene eseguita una procedura endoscopica, il supporto dell'intelligenza artificiale consente un esame dei video che vengono gerati durante la conoscopia molto più approfondito e più accurato, con la possibilità anche di identificare alcune lesioni che qualche volta potrebbero sfuggire nel corso di un regolare esame endoscopico.